Sì, diciamo che sono condizioni molto differenti rispetto a ieri. Ieri soffiava il sud-ovest e oggi soffia il nord-est, quindi 180 gradi, completamente ribaltata alla direzione del vento. Un vento, una sea breeze che è abbastanza normale qui ad Auckland. Il vento sarà, mentre ieri era molto sostenuto, oggi sarà medio-leggero, ci saranno più o meno tra i 9 e i 12-13 nodi. Pensiamo che comunque, malgrado tutto, sarà un vento stabile. Le condizioni della corrente non sono condizioni particolarmente difficili, anche perché praticamente la prima regata sarà in slack, ovvero non ci sarà corrente, mentre nella seconda regata ci potrebbe essere un po' più di corrente sulla parte destra del campo. Il campo di regata Alfa è un campo diverso di nuovo rispetto a quello di ieri. Mentre ieri regatavamo più vicino alla città, oggi regatiamo nel campo Alfa, che è posizionato molto più a nord. Diciamo che regateremo vicino a questa isola che un totto d'anni fa non c'era, che si chiama Rangitoto, è dove il vento si incanala tra l'isola e terra, quindi formando una sorta di venturi che rinforza un po' la prezza termica. In queste condizioni di vento è estremamente medio-leggero, ovviamente i team possono scegliere delle vele un po' diverse, a seconda se sei nel cosiddetto marginal foiling o no. Il fioco lo cambi abbastanza facilmente, diciamo che l'operazione cambio fioco può avvenire più o meno in una decina di minuti, la randa invece ci vogliono 25-30 minuti, ed è per questo che è sconsigliabile cambiare la randa tra una prova e l'altra, se non altro perché comunque vuoi che il tuo equipaggio sia concentrato sulle cose che sono veramente importanti, quindi diciamo che le chiamate dei cambi vela devono essere fatti soprattutto per la randa con un po' di tempo.